non posso fare finta di nulla credo che sia un mio dovere morale etico per nel mio piccolo è nel nel piccolo della mia visibilità lanciare questo questo messaggio perché arrivati a un certo punto ragazzi io credo che che siamo stanchi e siamo in tanti ad essere stanchi non mi riferisco solamente ai personaggi pubblici non mi riferisco solamente ai calciatori mi riferisco in generale a quello che è il mondo del web a quello che è il mondo dei social a quello che è l'attuale mondo dei social e mi rendo conto che anno dopo anno ragazzi le cose peggiorano ma le peggiorano non così tanto per si oltrepassa sempre di più il limite in maniera completamente gratuita insulti insensati in questo caso stiamo parlando di calcio di 22 calciatori che all'interno di una singola partita che dura 90 minuti corro dietro a una palla a questo si arriva per una partita di calcio ci arriviamo con calma bentornati e ben ritrovati allora devo fare alcune premesse ma prima se vi fa piacere iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblico qualcosa anche su questo canale youtube oltre che sul primo canale oggi non avevo spazio sul primo canale per pubblicare questo contenuto ma la notizia se così la vogliamo chiamare è fresca e ci tenevo oggi immediatamente a lanciare questo segnale se non mi sbaglio in realtà ne avevano già parlato ieri o forse anche l'altro ieri quindi sono anche in ritardo non volevo perdere ulteriore tempo in merito seppur sono assolutamente consapevole che ste campagne di sensibilizzazione ragazzi continuano a sensibilizzare chi è già sensibilizzato perché ne sono consapevole però ci tengo a dire la mia ci tengo a mettere in pubblico quello che è il mio parere e a condannare a puntare il dito lasciate mi piace ovviamente se vi fa piacere ve l'ho detto ho due canali di calcio questo lo tratto da sempre come un primo canale quando non ho spazio sul primo canale pubblico qui per quello vi chiedo di seguirmi c'ho anche un canale youtube extra calcio se vi può interessare tutti i canali in infobox durante il video compariranno qui non è che non voglio fare teo rinandez l'unica vittima del web l'unica vittima dei social perché non è questo il mio intento è successo tantissime volte a tantissimi personaggi pubblici a me stesso ragazzi sempre per parlare di calcio sempre per analizzare una partita poco prima che nascesse mia figlia mi hanno fatto degli insulti simili io ho sminuito ho lasciato perdere ho cancellato quei commenti più di qualcuno li ha visti ovviamente su instagram se non ricordo male quando me ne sono accorto li ho eliminati ovviamente e quindi non è che succede solo a te fernandez succede praticamente a tutti e ci tenevo a fare anche un'altra piccola precisazione che non ce l'ho in questo caso solo con i tifosi del napoli che si sono permessi alcune persone parliamo sempre di mele marce parliamo sempre di singoli non parliamo di una città non parliamo di un'intera tifoseria eh mi raccomando e non parlo solo dei napoli perché tanto succede in tutte le tifoserie queste cose anche nella mia tifoseria nel qualsiasi anche le squadre del medio bassa classe o squadre del terza quarta categoria qui il problema alla base di tutto è la società odierna non ho detto però quello che è successo probabilmente l'avrò spoilerato nel titolo hanno fatto delle minacce morte a te fernandez non utilizzo il paragone che è stato fatto perché hanno si sono permessi anche di toccare una persona che da poco è scomparsa che da poco non c'è più ma soprattutto te fernandez che pubblica una foto con il figlio se non sbaglio per il compleanno in cui lo abbraccia lo bacia e in cui giustamente vuole condividere no quello che è che l'amore della sua vita no il figlio e la gente ragazzi ha insultato il figlio e alcuni gli hanno addirittura augurato la morte al figlio ragazzi al figlio già di per sé minacciare di morte per sport per calcio no il diretto interessato già di per sé una cosa veramente infima schifosa ma addirittura arrivare a minacciare ragazzi a ad augurare la morte al figlio è un qualcosa che io non non so neanche come definire a volte penso dico ma non può essere che un essere umano scrive una cosa del genere ma chi è che ha il coraggio davanti alla foto di un bambino di scrivere cattiveria di quel tipo dico so troll sono bot non può essere una cosa del genere e invece io vi assicuro che nella vita finta nella vita dei social nella vita virtuale c'è tanta gente che che fa questo chi lo fa anche per scherzo è ma è gravissimo lo stesso e chi invece le pensa veramente ste cose e io credo che il problema sia alla base il problema è alla fonte si è arrivati ad un punto in cui sta sfuggendo di mano il controllo del web e di quello che uno scrive ma questo perché chiunque pensa che può essere dicono c'è libertà di parola la gente pensa di poter avere la libertà di dire quello che vogliono io credo che lo stato debba intervenire in asprendo quelle che sono le pene previste per per queste situazioni perché poi noi personaggi pubblici voi non lo sapete voi che insultate voi pensate che potete scrivere tutto quello che volete e non avrete mai ripercussioni se argabomen de turno se al teo hernandez de turno una mattina se sveglia leggendo determinati commenti se sveglia col culo scoperto e c'ha voglia di perdere una giornata polizia postale ai carabinieri mi fanno passare un brutto quarto d'ora e vi sfilano pure un sacco dei sordi e non lo dico perché non conoscete la legge non la conoscete però non basta non basta perché secondo me si deve andare oltre io ce l'ho un uno spunto che voglio darvi e credo che si debba partire da una base credo che ad oggi uno dei modi che si possano utilizzare per arginare un po questa situazione innanzitutto sia il pugno duro quindi come ho detto prima in aspirire le pene ma creare anche una vera e propria identità digitale non consentire alle persone di so che detto così può sembra sempre semplice ma non è una cosa semplicissima no però c'ho il mio cellulare devo commentare sul web ogni dispositivo che ovviamente è dietro un dispositivo dietro un dispositivo c'è una persona no che ha la proprietà di quel dispositivo io metterei l'autenticazione con l'identità digitale vuoi commentare sul web vuoi dire determinate cose benissimo dietro diceva vabbè ma c'è sta dietro l'indirizzo ip si può risalire si può risalire ragazzi ci vuole troppo tempo metti l'identità digitale vedrai che la gente ci pensa due volte prima di commentare prima di scrivere determinate cose perché con un click o anche senza click tutto è subito riconducibile a te lì si entra in altri meriti perché qualcuno potrebbe dire ma quel commento non l'ho fatto io mi hanno preso il telefono potrebbe essere una cosa sicuramente più difficile da gestire però la mia è anche una provocazione che voglio lanciare per ragazzi cercare di arginare un qualcosa che sta diventando veramente vergognoso è un qualcosa che siamo stufi che non vogliamo più vedere soprattutto noi che ci esponiamo sul web e che la cosa assurda è anche che siamo vittime di minacce anche chi magari sul web si esprime in maniera educata pacata rispettando sempre gli altri io veramente non riesco a capire dove si arriverà il problema di tutto questo ragazzi è il benessere più si sta bene più una società arriva a questo miei nonni all'epoca mi dicevano sempre in tempo di guerra quando arriva una guerra quando non c'hai i soldi per mangiare quando i soldi non servono a niente praticamente no quando ti devi procacciare qualcosa da mettere nello stomaco perché sono giorni che c'è lo stomaco vuoto e vai addirittura a cercarne i secchioni dell'immondizia o via o via dicendo tutte ste cattiverie tra le persone non esistevano perché quando passi dei momenti bui quando passi dei momenti brutti quando ti vengono anche gioco forza limitate alcune libertà la gente tra di loro si aiuta questo mi hanno sempre detto i miei nonni e anche se c'era un pezzetto di pane così e c'erano venti persone si divideva quello che succede adesso è il troppo benessere è la mancata educazione che i genitori trasmettono ai figli e perché di conseguenza non ce l'hanno anche loro e non l'hanno ricevuta a loro volta dai loro genitori ma le generazioni che più stanno a passare le generazioni più sta educazione ragazzi va sempre a peggiorare perché se prima si dava tanta educazione così negli anni l'educazione sta a fa così sta a fa non si dà l'educazione si dà la maleducazione ai figli e questa è una cosa veramente grave veramente cioè la gente dovrebbe dovrebbe vivere dei periodi di di guerra secondo me per capire veramente che cosa significa rispettare gli altri e avere anche un minimo di come posso dire di misericordia di voler aiutare gli altri anziché infangarli in questo modo non voglio dilungarmi troppo non voglio aggiungere altro perché veramente potrei parlare per altri non so 20 25 30 minuti girerei sempre sullo stesso argomento ripeto sono consapevole che si va a sensibilizzare chi è già sensibilizzato sull'argomento perché certa gente non cambierà mai ma dobbiamo fare in modo di limitare tutto questo quando leggete commenti di questo tipo ragazzi rispondete e rispondete a tono puntate il dito contro questa gente non fate gli omertosi non fate finta di niente non lasciate correre pochi lo fanno dovete ribellarvi segnalate commenti di questo tipo non bisogna permettere a certa gente di stare sul web come allo stadio te danno ad aspo e via dicendo non ti devono più limiti la libertà personale non devi avere più il diritto di scrivere non devi avere più il diritto di accedere ad internet se il tuo obiettivo è fare questo schifo voglio sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti ciao ciao